Angelo Quaglia, dirigente di distrutto compressivo di Tardi, quanto è importante insegnare la sicurezza ai bambini fin dai primi anni? Secondo me è importantissimo, proprio perché tutte le buone pratiche devono essere introdotte il prima possibile. Questo per creare proprio una cultura di base che poi cresce nel tempo. Più tardi si comincia e più diventa difficile far comprendere, far diventare naturali determinati comportamenti che sono poi quelli che sono ideali per tutto, per la salute, per la cultura, per l'educazione. Quindi la nostra scuola cerca di promuovere queste cose in tenera età, fin dalla tenera età.